Con Francesco Prosperetti, soprintendente per il Colosseo, il Monizio Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma, quali sono gli spunti più interessanti che abbiamo potuto oggi trarre da questo dibattito? Direi che lo spunto è stato proprio il titolo di questo dibattito, che parlava di turismo sostenibile per i grandi attrattori. Io in forza del mio ruolo mi trovo a dover riorganizzare un'offerta turistica in termini di servizi, di qualità dei luoghi, che è del tutto inadeguata rispetto a una domanda che si fa di anno in anno più intensa. Noi cresciamo con mezzo milione di visitatori all'anno e quindi ci sentiamo inadeguati oggi a fornire i servizi che sono indispensabili per dare un'accoglienza di carattere sostenibile a questa forte domanda turistica. Ci impegniamo per questo, la mia idea è quella che si debbano attrezzare con servizi nuovi anche le aree archeologiche, aprire dei punti di ristoro. È incredibile che fino ad oggi queste cose non ci fossero, ma nell'anno del Giubileo inaugureremo il percorso dei disabili all'interno del Foro Romano, che è una cosa anche lì che mancava da sempre, inaugureremo un ristorante di qualità al Palatino e apriremo molti dei siti all'interno del Palatino che fino ad oggi erano chiusi. Speriamo che questo basti a dare in un anno importante come quello Giubilare un'immagine nuova e più adeguata a questo grande attrattore che è in fondo il centro più antico di Roma.